Musica Nuova puntata di Crimini, benvenuti, benvenuti a tutti quanti voi e benvenuto, bentrovato ovviamente all'Arcangelo Badolati, giornalista di Gazzetta Sud e scrittore Allora Arcangelo, bentrovato come sempre, oggi raccontiamo altre storie, altre storie davvero particolari con nomi noti, se vogliamo, sotto un certo punto di vista e possiamo assicurare che sono nomi noti e nell'ambiente legato alla criminalità penso magari a Boss Pentiti, giusto per introdurre qualche argomento con l'Arcangelo, però poi parleremo anche di altri nomi, nomi noti magari nel mondo investigativo perché anche e soprattutto in Calabria possiamo dire perché ci sono, ecco parleremo di persone che hanno rivestito altri ruoli e rivestono oggi anche ruoli importanti Allora Arcangelo, sicuramente è una puntata incentrata su un aspetto che abbiamo trattato altre volte che è un aspetto etico oltre che giuridico, cioè il pentimento Poi al di là dei nomi che ci sono c'è sempre poi questa, come dire, questo punto interrogativo e su ogni tipo di pentimento e di collaborazione è una collaborazione vera, è un pentimento ecco, allora una collaborazione o un pentimento perché anche qui penso che proprio nella dicotomia ci sia già una differenza Oggi parliamo di un pentito, un importante pentito della Camorra un boss celebre che prende il nome da un protagonista di uno degli sceneggiati televisivi più famosi nel periodo in cui ero giovane quindi tutti quelli delle mie generazioni sanno a chi mi riferisco un personaggio che interpretava Sandokan, si chiama Kabir Bey un attore di origine indiana, diciamo poi trasferitosi in Inghilterra che aveva una barba particolare e quindi è passato l'immagine di Sandokan nella memoria collettiva della mia generazione è passata l'immagine di Sandokan con il volto di Kabir Bey e nell'ambiente della Camorra napoletana veniva chiamato Sandokan per chi aveva questa stessa barba, insomma i capelli mossi come questo attore famoso, veniva chiamato Sandokan Francesco Schiavone Francesco Schiavone è stato lo spietato capo insieme ovviamente ad altri personaggi uno di questi Antonio Iovine, l'altro Michele Zagaria l'altro ancora Francesco Bidognetti, capo dei famosi Casalesi sono quelli che hanno dominato diciamo l'area casertana ma poi hanno dominato varie aree diciamo del nostro paese più in generale e anche di parte dell'Europa Sandokan che vedrete nelle immagini, eccolo qua Schiavone viene arrestato nel luglio del 1998 grazie ad un'operazione tra l'altro in qualche modo anche coordinata da un questore poi divenuto celebre ex capo della squadra mobile tra l'altro di Reggio Calabria e di varie squadre mobili che è stato Guido Luongo che noi conosciamo anche poi come commissario alla sanità lui si è impegnato molto diciamo contro i Casalesi e quindi lo ritroviamo anche protagonista nelle vicende dei Casalesi Sandokan che fa? viene arrestato, ritenuto responsabile di molti crimini e rinchiuso dal momento dell'arresto in avanti per 26 anni che non sono pochi al 41 bis quindi immaginate 26 Natali, 26 Pasque, 26 Estati trascorse nel regime di carcerazione speciale e nulla lasciava presagire il suo pentimento insomma rappresentava quest'area diciamo dura della camorra non incline ai pentimenti invece due suoi figli nel giro di pochi anni proprio in tempi molto recenti il suo primo genito tra l'altro Nicola decide di collaborare con la giustizia poi lo segue il suo secondo genito Walter mentre gli altri due figli rimangono estrani diciamo al mondo della collaborazione con la giustizia a un certo punto qualche settimana fa Francesco Schiavone dichiara di voler collaborare rinchiuso il regime speciale chiede di incontrare i magistrati di antimafia e paventa questa sua decisione che viene naturalmente accolta con le pinze intanto perché ha una memoria molto relativa da 26 anni al 41 bis ma comunque può offrire per il ruolo che ha avuto nell'ambito dei Casalesi un contributo importante viene intanto sentito dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e poi naturalmente da Nicola Gratteri che è procuratore distrettuale di Napoli e che di pentiti importanti se ne intende che ha gestito sia quando era a Reggio sia quando poi è stato a Catanzaro numerose collaborazioni con la giustizia che cosa può dire intanto Schiavone? intanto può parlare della morte del capo storico dei Casalesi quello che fonda questa grande organizzazione criminale che ha interessi nel mondo dell'imprenditoria che ha rapporti con la politica che ha gestito quell'immondo traffico di rifiuti che ha trasformato una parte del casertano nella famosa terra dei fuochi e cioè Antonio Bardellino Antonio Bardellino ha una vita che è una vita diciamo da film perché appunto fonda questo gruppo combatte contro Cutolo insieme alla nuova famiglia e poi viene dato per morto in Brasile dove si era rifugiato viene ucciso lì questo non lo sappiamo per certo molti pentiti prima di Sandogan dicono che è stato ammazzato certo è che dopo di lui viene ammazzato pure il nipote pari da Sanzillo che era il suo nipote il nipote al cui era particolarmente affezionato ecco Francesco Schiavone può dirci come perché da chi è stato ammazzato Antonio Bardellino può anche dirci che Antonio Bardellino non è mai morto perché potremmo anche pensare ad una vita nuova che quest'uomo si è inventato facendosi passare per morto io dico che è improbabile perché il nipote che era insomma l'uomo di sua massima fiducia viene a sua volta assassinato quindi certamente Sandogan può raccontare queste cose può poi dire tante cose legate appunto al rapporto equivoco del suo clan, del suo gruppo, del gruppo dei Casalesi con ambienti istituzionali e politici campani e non solo campani con ambienti dell'imprenditoria campana e non solo campana quindi può fornire anche se elementi datati storicamente può fornire una serie di indicazioni che possono rivelarsi interessanti quantomeno dal punto di vista storico se non da quello giudiziario perché ovvio che dopo 26 anni i reati possono essere considerati prescritti però su alcune cose può parlare vi sono poi gli omicidi aggravati che sono imprescrivibili quindi certamente su molte morti potrà dare delle indicazioni Carmine Schiavone lo aveva preceduto in questa scelta chi è stato Carmine Schiavone? Carmine Schiavone era il cugino di Sandocane che è stato trovato morto nel 2015 nella località protetta dove viveva e Carmine Schiavone è stato il primo della famiglia Schiavone è certamente il primo tra i Casalesi importanti ad aver deciso di collaborare con la giustizia e lui che appunto negli anni 90 svela al mondo ma soprattutto all'amministratura inquirente quello che era accaduto nel Casertano ci arrivavano questi rifiuti da altre zone d'Italia e non solo sono rifiuti tossici anche radioattivi e venivano interrati lì con guadagni per così dire spaventosi e questi guadagni però corrispondevano pure ad una infezione di quell'aria che era un'infezione costante e quindi lì si è verificato un numero altissimo di decessi legati a patologie tumorali sono anche morti investigatori che per il loro ruolo indagavano sui rifiuti tossici e quindi andavano in quella zona frequentemente e descrive anche Carmine Schiavone con una lucidità anche un cinismo che è una sincerità cinica io direi descrive i rapporti e gli interessi che nell'ambito del traffico di rifiuti avevano anche altre mafie perché Schiavone tira in ballo pure l'andrangheta dice che anche gli indranghettisti erano interessati a questo fenomeno che non interessava agli indranghettisti che venissero avvelenati anche il loro territorio e loro interessava il business i soldi piacciono a tutti e lui lo ha raccontato e vi sono, devo dire, delle cose strane avvenute in Calabria vi sono alcune aree, alcune zone della nostra regione che sono state interessate da un numero elevatissimo di patologie tumorali abbiamo delle indagini soprattutto anche dei collaboratori di giustizia calabresi che parlano dell'interramento di rifiuti altamente tossici e anche radioattivi e quindi abbiamo un riscontro indiretto rispetto alle dichiarazioni di Carmine Schiavone sebbene non vi siano poi indagini conclusisi con dei processi cioè con l'avvio di tutta quella fase che serve ad accertare in dibattimento la veridicità di alcune piste perché poi questi rifiuti tossici e radioattivi non sono mai stati individuati si è parlato della zona ionica del Regino si è parlato di una zona dell'Alta Calabria nel Cosentino non lontana dal capoluogo si è parlato di una zona della Piana di Gioia Tauro ma di questi rifiuti non si è mai trovata reale traccia certo è che Carmine Schiavone offre un quadro inquietante ma quali erano i rapporti? torniamo a Sandocan che è il pentito più recente quali erano i rapporti tra Sandocan e la criminalità organizzata calabese? ecco di questo abbiamo delle tracce precisi intanto abbiamo tracce della presenza di Schiavone quando era libero nell'Alto Tirreno-Cosentino quindi nella Calabria settentrionale tirrenica e poi abbiamo certezza di rapporti tra i casalesi legati a Francesco Schiavone ed un clan di Cosenza che era il clan Bruni in particolare vi erano ragioni di amicizia legate alla carcerazione che aveva fatto Francesco Bruni detto Bella Bella che è stato il capo di questo clan e poi è stato ammazzato quando è uscito insieme a Libertà a seguito della carcerazione patita da Francesco Bruni erano nati in carcere soprattutto nel penitenziario di Carino rapporti tra i casalesi di Sandocan e questa famiglia e poi abbiamo riferimenti a questo fatto anche grazie alle dichiarazioni fatte da Edita Copacinska che è l'unica donna polacca condannata per associazione mafiosa in Italia che era la moglie di Michele Bruni che era l'erede diretto di Francesco Bruni quindi il figlio di Bruni che era un personaggio molto intelligente molto determinato bravo nel parlare è una specie di bossa all'antica e pare che avesse intenzione proprio in ragione dei rapporti in tessuti con i casalesi di commercializzare le mozzarella prodotte da aziende vicine ai casalesi nel Cosentino non solo un altro pentito sul quale io ho alcuni dubbi però insomma lui dice tante cose molte non hanno trovato riscontro in questo caso Francesco Galdi così si chiama racconta proprio che Michele Bruni sarebbe stato battezzato gli sarebbero stati dati dei gradi più che essere battezzato gli sono state date delle doti in carcere proprio anche con la partecipazione appunto di personaggi legati a Francesco Schiavone quindi ai casalesi i casalesi che con questa appendice anche calabrese se volete i casalesi che hanno subito durissimi colpi da parte delle forze dell'ordine e dell'amministratura con un'operazione famosa che si chiamava Spartacus che viene impegnato tra gli altri anche Federico Caffiero De Rao l'ex procuratore nazionale antimafia e procuratore di Reggio Calabria ma ha avuto dei colpi diciamo molto forti quando uno dei capi prima di Francesco Schiavone detto Sandogen decide di collaborare con la giustizia e con lui si chiama Antonio Iovine detto Nino Nino vuol dire il bambino perché vedete ha una faccia da bambino un uomo spietato determinato cinico che viene arrestato peraltro con una operazione della polizia di stato che è stata coordinata da un grande poliziotto calabrese che è diventato il capo della polizia che si chiama Vittorio Pisani e Vittorio Pisani che diciamo organizza segue tutte le indagini che porteranno alla clamorosa cattura di Antonio Iovine Antonio Iovine che cosa dice quando deciderà dipentisti dice Casalesi sono finiti e poi farà luce su tantissime cose su rapporti equivoci con vari ambienti parlerà pure di cose spiacevoli nel senso della possibilità che Casalesi almeno lui avevano avuto di corrompere magistrati nell'ambito giudiziario napoletano racconta di aver versato personalmente 250.000 euro per essere assolto in appello in un processo per omicidio ma tra le cose che dirà racconta pure Antonio Iovine che è stato autore confesserà questo dell'omicidio di Ciro Nuvoletta il fratello di Lorenzo Nuvoletta capo storico di una parte della Camorra legato in particolare ai siciliani di Cosa Nostra è soprattutto tristemente celebre per avere deciso questa è la tesi della magistratura insieme a Valentino Gionta di assassinare un giornalista che poi era un precario del mattino di Napoli viene ammazzato proprio perché aveva il coraggio di scrivere e segnare alcune cose che si chiamava Giancarlo Siani Giancarlo Siani un giornalista viene ammazzato appunto su un mandato della Camorra perché era uno che non la mandava a dire e che raccontava molte cose quindi guardate come le cose si intrecciano ci sono tanti incroci sto notando anche con la Calabria ci sono questi incroci con alcune zone del Cosentino questo conferma che la criminalità che le varie cosche non sono ferme cioè intrecciano rapporti anche fra di loro al di là delle guerre che possono nascere all'interno di un territorio però mi sembra di capire che quando insomma ci sono problemi diciamo fra confinanti ci possono essere questo tipo di problemi fra cosche magari fra boss di diverse zone possono nascere rapporti di collaborazione potevano insomma beh sono rapporti per esempio l'andanghe da Calabria sono rapporti storici con la Camorra napoletana sono rapporti per esempio risalenti a Franco Pino per l'Alta Calabria a Paolo De Stefano per la Bassa Calabria cioè rapporti con Raffaele Cutolo con la nuova Camorra organizzata cioè ci sono rapporti molto stabili poi quando Cutolo esce di scena l'NCO viene sconfitta naturalmente i rapporti si rinnovano quindi si cercano altri spazi altre dimensioni altre alleanze quindi abbiamo conferma anche di alleanze appunto per esempio con i casalesi ma non solo ma cosa può dire abbiamo detto Francesco Schiavone detto Sandogan io ho parlato di Antonio Bardellino di Paride Salzillo dei grandi affari con gli imprenditori di quell'epoca quindi degli anni 90 quindi molti omicidi pure certo qualcosa vuole dirla perché da quello che sappiamo dalle poche cose filtrate perché immaginate con quale riservatezza viene gestito il pentimento di un personaggio di questo tipo da quello che sappiamo una delle prime dichiarazioni che ha fatto Francesco Schiavone è questa sono un uomo d'onore dirò la verità sappiamo pure che essendo malato perché ha 70 anni Schiavone probabilmente vuole finire la sua vita in famiglia quindi ha questa esigenza questa necessità certo eppure avrà influenzato il fatto che i figli abbiano deciso il primo genito Walter scusami il primo genito Nicola e il secondo genito Walter di collaborare con la giustizia questo non lo avrà certo inizialmente fatto gioire ma certamente questa scelta l'avrà spinto adesso a 70 anni essendo gravemente malato l'avrà spinto verso una scelta collaborativa vi sono però tra i casalesi anche degli riducibili cioè degli altri capi al pari di Antonio Iovine detto Oninno di Francesco Schiavone detto Sandogan che hanno avuto ruoli importantissimi ma che non collaborano con la giustizia hanno scelto di rimanere rinchiusi nel carcere duro quindi di essere sottoposti alla detenzione speciale preferiscono questo piuttosto che diciamo collaborare con i magistrati beh il più importante tra questi certamente Michele Zagaria cioè il trio lì era Zagaria Iovine Schiavone Michele Zagaria che è rinchiuso in galera non apre bocca e l'altro personaggio certamente importante che non vuol collaborare è Francesco Bidionetti detto Cicci e Mezzanotte se vi approccerete alla storia dei Casalesi se leggerete gli atti giudiziali che li riguardano soprattutto un'operazione Spartacus e controverete questi due personaggi come personaggi centrali della storia criminale di questa grande importante Cosca Campana quindi c'è come dire una una crasi a metà da una parte Iovine Schiavone con i suoi figli dall'altra naturalmente questi altri due certo in Campania al contrario di Cutolo che non ha mai collaborato con la giustizia che è rimasto in carcere ed è morto in carcere per esempio il capo l'elemento più famoso quello che ha messo tutti insieme nel gruppo chiamato Nuova Famiglia che mosse la guerra a Cutolo Carmine Alfieri si è pentito si è pentito pure e Carmine Alfieri è stato ed è un pentito importante che però ha pagato un prezzo altissimo perché ad Alfieri sono stati uccisi il figlio Antonio e il fratello Francesco quindi è stato duramente punito per questo un altro boss importantissimo della Nuova Famiglia che poi era il vice di Alfieri Pasquale Galasso si è pentito pure tenete conto anche che sia Galasso che Alfieri avevano rapporti con i chialabresi in particolare Galasso ebbe rapporti con i superstiti del clan di Giuseppe Cirillo che era stato decapitato durante la guerra contro i coriglianesi Pasquale Galasso era comparso in quell'area tentando di aiutare Fiorinda Mirabile che era la figlia di Mario Mirabile cognato di Cirillo che era stato ammazzato aveva cercato di aiutarla in una guerra contro i coriglianesi poi non se ne fece nulla comunque sia Alfieri che Galasso avevano rapporti con i calabresi Alfieri poi aveva rapporti con il gruppo dell'alto di Reno Cosentino con l'andrangheta operante in quella zona della Calabria poi c'è Pasquale Barra certamente famosissimo detto animale killer delle carceri uomo di fiducia di Cutola a un certo punto elevato al rango di vice della nuova camorra organizzata che si pente poi ci sono anche figure meno famose nelle altre regioni d'Italia ma famosissime in campagna Felice d'Ausilio per esempio di Bagnoli un pentito che ha dato importanti indicazioni alla magistratura inquirente ancora Giancarlo e Bruno avventurato di Acerra e a Fragola di quella zona della campagna prima di loro un pentimento clamoroso fu quello di Luigi Giuliano di Forcella un personaggio famoso per tante ragioni intanto per i rapporti che aveva avuto con Diego Armando Maradona per la fama di Playboy che lo inseguiva perché impazzivano per lui molte donne soprattutto straniere poi c'è un personaggio pure questo passato alla storia sanguinario ma oggi pentito passato alla storia come il sindaco di Ponticelli che è Ciro Sarno Ciro Sarno è un altro personaggio importante della Camorra che ha deciso di collaborare poi c'è ed era sindaco abbiamo detto no lo chiamavano il sindaco di Ponticelli perché governava l'assegnazione di quegli alloggi era uno che era un po' come Pablo Escobar che era un criminale molto feroce ma poi molto amato dalla gente di quell'area diciamo particolarmente povere di Medellin perché costruiva campi lavalloggi eccetera ecco Ciro Sarno a Ponticelli ha fatto anche questo nel senso che era popolare perché riusciva a trovare un alloggio a chi non ce l'aveva gestiva diciamo questo settore immobiliare quindi è passata la storia come il sindaco di Ponticelli però per farlo bisogna avere anche degli agganci altrove insomma non è sindaco ma ne fa le veci è un po' una storia della criminalità questa non solo campana anche calabrese ci sono persone che appunto nei vuoti lasciati dallo Stato poi si inserivano raggiungendo ad avere anche una popolarità un consenso sociale che è il trucco che serve oltre ai legami con il potere alle mafie per essere mafie altrimenti sarebbero organizzazioni criminali volgari invece diciamo diventano mafie e i boss sono veri i boss quando riescono appunto ad intessere contemporaneamente rapporti con i vari poteri e anche ad avere un consenso sociale una popolarità che a volte spaventa un altro personaggio che si è pentito importante della camorra napoletana è certamente Giuseppe Misso coinvolto nelle indagini sulla famosa strage del treno 904 poi c'è Luigi Cimmino che è un po' il capo è stato del Vomore della Renella un altro che ha deciso di collaborare con la giustizia e quindi avete un quadro insomma di questa camorra napoletana abbastanza variegato certo attraversata la camorra da collaborazioni che la giustizia ne aspettate come quella ultima cioè di Francesco Schiavone qual è il quadro poi invece per esempio se ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano cioè molti italiano-americani che hanno fatto la fortuna della criminalità organizzata negli Stati Uniti erano di origine napoletana altri calabrese altri siciliana ma insomma i napoletani avevano un ruolo tenete conto che Al Capone aveva origini napoletane per esempio quindi qual è stata la situazione quindi c'è anche questo legame internazionale cioè stiamo parlando anche dei legami fra diverse regioni però c'è anche un legame internazionale cioè la criminalità che si è spostata oltreoceano questo ne abbiamo spesso parlato però sembrava quasi e magari mi sto sbagliando che ci fosse più un legame con l'andrangheta e con Cosa Nostra invece mi stai dicendo che anche dalla Camorra sono arrivati diciamo uomini che hanno fatto poi fortuna anche negli Stati Uniti o altrove anche assolutamente proprio così Al Capone ho fatto il nome di uno dei più certi ma ce ne sono tantissimi ma anche negli Stati Uniti anche in Cosa Nostra americana come è successo adesso con Sandro come è successo con Misso con Sarno ho citato con Alfieri con Galassio tutti quelli ho citato Gimmino per ultimo e anche lì cioè nel mondo di questa grandissima criminalità organizzata americana che ha diciamo influenza negli States negli Stati Uniti ma anche in Canada quindi una criminalità che gestisce affari spaventosi cioè se voi immaginate ai traffici italiani ecco centuplicateli non so cioè lì si gestisce il sindacato dei lavoratori il sindacato del porto si gestisce tutto la raccolta dei rifiuti nelle metropoli immaginate quanti soldi forse anche perché e su questo ti interrompo e ci fermiamo e ti faccio questa domanda alla quale risponderemo fra poco forse perché c'era anche meno conoscenza della criminalità questa almeno a suo tempo adesso a questo mi risponderei fra poco perché dobbiamo fermarci per la nostra consueta pausa e restiamo con questo interrogativo risponderà fra poco Arcangelo Badolati e vi racconterà altre storie perché ci sono ancora tanti altri nomi da andare a conoscere e ovviamente a raccontare le storie a tra poco rientriamo in studio seconda parte è ovviamente di crimini ma una domanda oltre a tante storie una domanda è quello Arcangelo Badolati che ride ovviamente che sorride più che altro sta aspettando di poter rispondere non è un quiz ma mi piace voler volere un pochettino così andare oltre quello che racconto per capire perché anch'io mi metto nei panni dello spettatore alcune volte giro all'altro lato e cerco di capire allora mi chiedo se nel mondo statunitense come abbiamo detto a suo tempo soprattutto quando questi italiani questi esponenti alla criminalità calabrese siciliana campana abbiamo visto hanno fatto fortuna hanno gestito davvero di tutto perché magari c'era meno conoscenza c'era meno sospetti tra virgolette rispetto a quanti ce ne possono essere oggi no i sospetti gli americani hanno sempre avuti sono state varie commissioni che si sono interessati del crimine organizzato sono stati approvati atti legislativi che consentono tuttora alle forze di polizia americana al FBI di intervenire contro le cose è che il sistema era così variegato che la cosa nostra americana è sopravvissuta a tutto ha però subito colpi durissimi anche lì come nella camorra napoletana vedremo poi nell'andrangheta calabrese o in cosa nostra siciliana anche lì ci sono stati dei pentiti alcuni diciamo minori altri importantissimi il primo dannosissimo collaboratore di giustizia per cosa nostra negli Stati Uniti è stato Gioe Valachi il quale temeva di essere ammazzato da Vito Genovese che era tra l'altro Vito Genovese era di origine campana pure lui come Al Capone temeva di essere ammazzato e quindi in cella uccide un compagno di cella che pensava fosse legato a Vito Genovese e poi da quel momento siccome viene accusato di questo omicidio decide di collaborare con la giustizia e racconta tantissime cose dalla cerimonia di affiliazione quindi il rituale d'ingresso in Cosa Nostra racconta in retroscena degli accordi tra le famiglie racconta di tanti delitti racconta dei rapporti di Cosa Nostra insomma con il mondo della politica pure là col mondo istituzionale col mondo imprenditoriale insomma offre un quadro d'insieme che fa tremare l'America tra l'altro Gioe Valachi non è che avrà poi dei grandi vantaggi perché rimarrà di fatto detenuto però sarà chiamata a testimoniare non solo in tribunale ma anche di fronte alla commissione parlamentare che verrà istituita per sentirlo e non si tirerà mai indietro il personaggio di Valachi è trasposto nel cinema tra l'altro in un film vecchio degli anni 70 ed è interpretato da Charles Bronson che era un attore americano che faceva il duro nel poliziotto nel film invece in quel film interpreta proprio Gioe Valachi che vedete qui invece con il suo vero volto dopo Valachi c'è un altro personaggio che fa un sacco di danni è un personaggio molto più recente che si chiama Sammy Gravano detto de Bull il toro perché il toro perché era mastodontico dal punto di vista fisico ed era stato il killer di fiducia di Paul Castellano quindi del successore di Carlo Gambino alla guida della famiglia Gambino e quando Paul Castellano era stato ammazzato dai fratelli Gallo da Gioe Gallo da Crazy Gallo da questi matti Gioe Gallo veniva chiamato matto è stato ammazzato in una sticker house in New York diventerà poi l'uomo di fiducia di John Gotti e deciderà di collaborare con la giustizia quando tutta l'architrave dell'organizzazione retta da John Gotti verrà demolita dalle investigazioni del bureau americano dell'FBI e deciderà di collaborare con i magistrati quindi tradirà questo capo lo farà finire condannato all'ergastolo John Gotti poi morirà di cancro in carcere se mi gravano collaborerà quindi in maniera intensa con le autorità statunitensi solo che poi a un certo punto mentre sotto protezione verrà riarrestato perché come dire si dice un vecchio brocardo il lupo perde il pelo ma non il vizio aveva ripreso a condurre attività illegali si era specializzato nello spaccio diciamo di extasi naturalmente non lo spaccio minuto nel mega spaccio di extasi ed è stato riarrestato il personaggio poi che di più ha danneggiato al pari secondo me ma forse anche oltre di Semigravano è certamente un capo di una famiglia importantissima di Cosa Nostra Americana che si chiama Gioe Massino che era il capo pensate della famiglia Bonanno la famiglia Bonanno è la storia di Cosa Nostra Americana famiglia fondata da Salvatore Maranzano detto The Little Caesar perché quando dopo l'omicidio di Gioe Masseria avvenuto in un ristorante diventa il capo di Cosa Nostra Americana divide le famiglie le struttura come se fossero delle legioni romane capiche pidecine sotto capi eccetera e quindi si fa chiamare o lo chiamano lui amava essere chiamato così The Little Caesar poi verrà ucciso da Salvatore Lucania che tutti conosciamo col nome di Lachiluciano dei suoi sgherri degli uomini di Meierlas che ma agiscono per conto di appunto Lachiluciano e Gioe Massino diventerà perché succederà a Maranzano Gioe Bonanno e poi dopo Gioe Bonanno messo da parte diciamo negli anni 90 negli anni 90 in avanti assumerà la guida del clan Gioe Massino e Gioe Massino incredibilmente a un certo punto deciderà di collaborare con la giustizia lo chiamavano The Last Don cioè l'ultimo don l'ultimo grande capo e così si comportava cioè sembra un personaggio da film Gioe Massino se legge degli atti che lo riguardano il racconto che fa della sua vita è davvero un personaggio in qualche maniera leggendario della criminalità organizzata americana che però poi manda tutto al macero cioè brucia questa sua fama perché decide di collaborare perché un cognato nel 2004 lo tradisce cioè si vende agli agenti federali diventa un testimone contro di lui e quindi lui si vede come il futuro la sedia elettrica e quindi fronte alla possibilità di finire bruciato preferisce collaborare con i federali e quindi con la magistratura americana e distrugge di fatto la famiglia Bonanno che poi naturalmente si rimetterà in sesto insomma troverà prosecutori capi consigliori vice capi insomma riuscirà a riprendersi ma insomma il più grande pentimento degli ultimi anni avvenuto della mafia americana è quello certamente di Gioe Massino e che succede nelle altre torniamo in Italia riprendiamo questa nave o quest'aereo quello che preferite e torniamoci in Italia che succede pure in Italia negli ultimi giorni si pente abbiamo detto Francesco Schiavone ha detto Sandokan nelle ultime settimane e si pente un altro personaggio che certamente nessuno immaginava potesse pentirsi un personaggio che viene dalla Puglia la mafia garganica ed è Marco Raduano perché è famoso Raduano perché è uno dei pochi detenuti nella storia del nostro paese soprattutto nella storia di uno dei penitenziari più duri che ci siano un penitenziario sardo che si chiama Badencaros è forse l'unico o il secondo il secondo detenuto in assoluto che è riuscito ad evadere da quel carcere ci sono delle immagini qui c'è da fare una telecronaca quasi quasi guarda qui c'è lui che annoda lenzuola e scappa ecco si lancia ecco da quel momento Marco Raduano incredibilmente riuscirà a scomparire per un anno intero siccome poi lasciata la Sardegna raggiungerà la Corsica e commetterà degli errori naturalmente lo Stato non poteva sopportare che uno fosse evaso da Badencaros e che addirittura una volta evaso da Badencaros non fosse più ripreso mette addosso le autorità italiane nostre le autorità giudiziarie anche diciamo le autorità secondo me istituzionali più in generale mettono addosso a Raduano il Rosso il Rosso lo scova dopo un anno lo trova in un ristorante di lusso dove sta cenando con una bella donna e quindi viene portato in carcere e lì probabilmente avendo riprovato il gusto della libertà di un buon ristorante un ristorante di lusso Marco Raduano deciderà di collaborare con la giustizia quindi due grandi sorprese uno in Campania con Francesco Schiavone l'altro in Puglia con Marco Raduano il quale naturalmente parlerà di moltissimi delitti tenete conto che nel Gargano ci sono stati scontri terrificanti tra i clan c'è una mafia durissima ma vi sono interessi enormi perché ci sono zone turistiche frequentatissime e quindi è un posto di grande interesse e in Calabria in Calabria sorprese diciamo particolari grosse ultime non ne abbiamo avuto abbiamo avuto dei pentimenti nell'Alta Calabria che non è nuova a questo fenomeno è una zona diciamo abbastanza piena di collaboratori di giustizia pentimenti che riguardano Cosenza e la Sibaritide un imprenditore agricolo Luca Talarico un ex rapinatore ma anche killer Gianluca Maestri Cosentino ma al servizio anche delle cosche della Sibaritide e per ultimo il proprietario fuoristrada utilizzato dai sicari di una coppia Maurizio Scorsa e Nenengli che vengono assassinati il 4 aprile del 2022 nelle campagne poste tra Castro Villari e Cassano questi ultimi pentimenti ma sono come dire di basso profilo il primo grande pentimento del Cosentino si ha con Franco Pino che è un boss storico che collabora con l'amministratura nel 95 che offre una chiave di lettura a decine di fatti non solo della provincia di Cosenza ma anche di altre zone del nostro paese c'è nel Regino il pentimento importante di Paolo Iannò di Archie legatissimo a Pasquale Condello detto il Supremo Iannò è uno che racconta tantissime cose veramente dal di dentro per chi è stato accanto a questo campo importantissimo dell'Andrangheta Reggina poi abbiamo un figlio d'arte che dice tantissime cose che Emanuele Mancuso figlio di Pantaleone Mancuso l'ingegnere un personaggio importante di quella famiglia diciamo di Andrangheta che ha in Luigi Mancuso il personaggio in questo momento più carismatico più famoso poi c'è Giuseppe Giampà che è il figlio di Francesco Giampà di Lamezza detto il professore un altro pentimento ecco questo Giuseppe Giampà quello di prima era Emanuele Mancuso e questo Emanuele Mancuso Giuseppe Giampà che confessa di aver ordinato personalmente tra i 20 e i 25 omicidi quindi uno che gestiva diciamo l'ala militare del clan fondato dal padre poi abbiamo il piscopisano più famoso che Andrea Mantella che era un azionista ma anche personaggio apicale di questo gruppo che si era messo in testa insomma di combattere contro i patanieri Stefanaconi di diventare importanti anche nel capoluogo di quella provincia cioè di Vibo Valenza prima di loro due pentiti certamente significativi diciamo dei primi anni 90 sono per l'Andrangheta Giacomo Baldolauro che era legato al gruppo I Merti Condello e Filippo Barreca che invece era legato al gruppo De Stefano Tecano Libri questo è Baldolauro una foto d'epoca questo è Filippo Barreca Lauro è famoso per avere parlato di tantissime cose tra cui la strage di Gioia Tauro cioè l'esplosione di una bomba posta sul binario ferroviario che fece deragliare il treno del sole un treno partito dalla Sicilia doveva raggiungere naturalmente il Piemonte e moriranno sei persone vi saranno 80 feriti lui ha parlato di questo fatto ha dato una chiave di lettura che è stata ritenuta credibile dagli inquirenti Filippo Barreca è famoso invece perché fornì la carta d'identità ospitò prima Franco Freda personaggio storico capo di Ordine Nuovo che era all'epoca sospettato di aver ordinato organizzato la strage di Piazza Fontana poi venne assolto a Catanzaro il processo si celebrava per legittima sospicione a Catanzaro e di averli poi appunto fornito insieme con la collaborazione di altri la carta d'identità che si rivela utile per consentire a Freda di raggiungere poi dall'Italia il Costa Rica di vivere lì in latitanza poi verrà in effetti riarrestato Franco Freda quindi questo possiamo definirlo il quadro diciamo calabrese poi vi sono anche delle donne tra la Calabria per esempio e la Sicilia importanti dei siciliani ne abbiamo parlato in altre occasioni oltre Tommaso Buscetta Totuccio Contorno vi sono in qualche modo altri personaggi importanti il più celebre Giovanni Brusca quello che partecipò all'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo figlio del pentito Santino Di Matteo ma anche quello che permette il puzzante per far esplodere la bomba a Cabaccio questa è la vita a Giovanni Falcone vi sono anche delle donne pentite una di queste per esempio è Concetta Managona che era coinvolta col marito che si chiama Franco Condello in una faida molto feroce combattuta a Palmi che decise di collaborare con giustizia negli anni 90 dopo essere stata arrestata Giuseppina Pesce di cui tutti sanno perché è stata celebrata anche in serie televisivi figlio di Salvatore Pesce rompe questo muro dell'omertà collabora con i magistrati a Rosario un'altra donna di Rosario Rosa Ferraro che pure lei diciamo in trono al gruppo Pesce decide di collaborare con la giustizia nell'Alta Calabria possiamo pensare a Maria Vallone Aranci un'altra donna che ci parla invece delle cosche dell'area di Corigliano Rossano o tornando nel Vibonese e parlando di donne viene in mente la Loretana Patania del gruppo Patania di Stefanaconi che collabora con la magistratura inquirente nella Camorra Enrichetta Cordua che è stata condannata all'ergastolo di Ercolano rappresenta certamente invece un personaggio fermo come donna una che decide di non collaborare collabora invece a Cerdo diciamo nel Palermitano Carmela Ioculano che è un'altra donna durissima e molto importante abbiamo poi un personaggio diciamo camorrista legato alla Camorra una donna della Camorra Rosa Amato che dopo avere servito diciamo la causa camorrista a Santa Maria Capoavetere si pente per diciamo vendicarsi della morte del fratello che è stato ucciso e quindi decide in qualche maniera di vendicarsi collaborando con la magistratura la sua collaborazione viene ritenuta assolutamente credibile poi ci sono quelli che non collaborano quindi quelli che sono rimasti fermi sulle loro posizioni quelli che hanno scelto di vivere al 41 bis sono tanti attualmente detenuti Sebastiano Nirta Giovanni Strangio appunto di San Luca Giovanni Strangio coinvolto nella famosa strage di Duisburg così dicono gli inquirenti per questo è stato condannato con sentenza definitiva Nino Rotolo di Palermo un vecchio boss 70 anni a oggi Salvatore Lopiccolo oggi 81enne che fu quello che diede la possibilità ai cosiddetti scappati cioè agli Inzerillo di tornare dopo le stragi compiute dai Corlionesi di tornare in Sicilia fu ammazzato tutto Cinzerillo il fratello perché erano nemici di Rina e Provenzano e poi invece grazie alla mediazione anche di Lucio Lopiccolo questi riuscirono a tornare in Sicilia in tempi molto più recenti Stefano Fidanzati un altro personaggio importante siciliano Nino Madonia componente della cupola di Cosa Nostra per i Calabresi Franco Abruzzese leader detto Dentuzzo leader del gruppo diciamo degli Abruzzesi di Cassano all'Oionio detenuto al 41 bis mai pentito il Gastolano pure lui Mimmo Gallico di Palmi in carcere da più di 30 anni al 41 bis mai pentito quindi tuttora detenuto i fratelli Graviano di Brancaccio di Palermo Filippo e Giuseppe Graviano Giuseppe tra l'altro coinvolto nel processo per l'andrangheta stragista in Calabria per questo condannato all'ergastro e poi uno dei personaggi più temuti di Cosa Nostra siciliana nel periodo corlonese Luca Bagarella il cognato di Dottorina pure lui ininterrottamente detenuto al momento dell'arresto condannato all'ergastolo ancora al 41 bis ecco questo è il viaggio che abbiamo proposto oggi passando da pentiti eccellenti a uomini invece mai piegati sia alla logica della collaborazione con la giustizia che sono in galera quindi un viaggio un po' strano partito appunto da Francesco Schiavone la Sandoga che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere pentito dopo 26 anni di caccia la ragione vera è che è malato 70enne probabilmente l'ha indebolito in qualche modo ha colpito il pentimento dei figli Nicola e Walter è certamente desideroso di finire la sua esistenza a casa questa secondo me è la ragione vera del pentimento di questo capo dei casalessi ecco Arcangelo tu hai detto una cosa importante tra 70 anni si è pentito perché ha diciamo la sua esigenza magari in questo momento è quella di vivere gli ultimi anni della sua vita visto che è malato insomma in famiglia che è un'esigenza per chiarità assolutamente umana e giusta questo però non farebbe fa pensare a una collaborazione ma non un pentimento o magari la malattia può aver scaturito anche quel percorso morale oltre che psicologico perché poi per carità bisogna chiederlo a lui e in questo momento sicuramente non abbiamo la possibilità di poterci parlare però in generale una considerazione di questo tipo fa pensare non a un pentimento ma una collaborazione a meno che non ci sia dietro un processo ripeto morale perché la malattia può anche cambiare le persone questo è difficile da dirlo così a cuor leggero si possono ipotizzare delle cose lui dice nelle prime dichiarazioni io sono un uomo d'onore e dirò la verità la verità la può dire sono tutti fatti molto datati perché è in carcere da 26 anni rinchiuso al 41 bis ha forme di comunicazione con i familiari molto relative certo è indebolito dal pentimento di questi due figli certo è indebolito dalla malattia dirà quello che sta se poi si è pentito o meno interiormente ecco questo può saperlo solo lui a volte il fatto che alcuni boss importanti preferiscano rimanere al 41 bis scontare la loro pena piuttosto che pentissi secondo me può essere letto anche come una forma di espiazione di quello che si è fatto mi ricordo Pietro Aglieri che è stato un latitante siciliano famoso che aveva addirittura nel suo covo questo altare aveva la Bibbia aveva gli atti del concilio Vaticano secondo per farvi capire è uno che disse io non mi pento preferisco stare nel dolore che si prova quando si sta al 41 bis purtroppo che in alcune discutibili scelte collaborative quindi alcune cose possono essere lette anche in questo senso diciamo la collaborazione che è la giustizia lo ripetiamo spesso è un rapporto contrattuale cioè è un do to death io collaboro con lo Stato lo Stato in cambio delle informazioni che offro mi dà dei vantaggi delle possibilità per esempio scontare in detenzione domiciliare con un diritto al lavoro uscire dal carcere avere uno stipendio un alloggio eccetera non è una vita facile quella dei collaboratori però certo è significativamente differente da quella trascorsa da chi vive al 41 bis però io credo che la collaborazione di Schiavone sia una collaborazione che si rivelerà sincera nel senso che si troverà davanti si è già trovato davanti Nicola Gratteri che è uno ecco qui poniamo l'accento pure su due personaggi che è uno che in Calabria poi ha mandato come dire a quel paese un termine forte si è liberato di due pentiti che non erano pentiti in fondo uno è Nicolino Grande Arac che abbozza una collaborazione con lui e viene rimandato indietro perché scoprono i magistrati che non sta dicendo tutto quello che sa e un altro certamente Roberto Porcaro che è il cosentino che è un elemento apicale di queste cosche confederate cosentine che approccia una collaborazione ma viene poi in qualche maniera scoperto i magistrati che si accorgono che sta raccontando solo le cose che sono agli atti che lui conosce bene quindi lo mollano poi lui fa una dichiarazione di ritiro sostanziale dalla posizione collaborativa insomma quindi quando Francesco Schiavone si è ritrovato di fronto a Cratteri sapeva perfettamente che era un magistrato non certamente da prendere in giro quindi ecco io credo che dirà tutto quello che sa ma quanto questo possa essere utile oggi questo non lo sappiamo dal punto di vista giudiziario dal punto di vista storico sicuramente sarà utile dal punto di vista giudiziario si potrà procedere rispetto ad omicidi aggravati per cui non esiste la prescrizione quindi sono ancora fatti per i quali la magistratura può intervenire magari molti dei sodali di Francesco Schiavone detto Sandogan in alcuni crimini saranno stati uccisi sono morti per morte naturale 26 anni sono tantissimi sono una vita quindi bisognerà capire questo siamo tutti curiosi di saperlo in Italia a me piacerebbe intervistarlo ma credo sia impossibile però sarebbe molto interessante parlare con Sandogan senza il filtro degli atti giudiziari cioè guardarlo negli occhi capire come raccontare le cose sentire quello che ha da dire soprattutto mi interesserebbe tantissimo comprendere bene come fu deciso l'omicidio di Antonio Bardellino perché Bardellino è stato dal punto di vista criminale un gigante della sua epoca è stato un personaggio importantissimo della Camorra quindi capire perché si arrivò come si arrivò come Bardellino non si accorse della trappola sarebbe molto interessante saperlo lo sapremo certamente perché i magistrati glielo avranno già chiesto ovviamente lo sapremo attraverso gli atti giudiziari non lo sapremo attraverso una tua intervista e questo ci dispiace comunque perché adesso è un po' più complicato rispetto al passato grazie Arcangelo per questo nuovo racconto per queste nuove storie straordinarie di storia ovviamente della criminalità ma storia anche del nostro paese grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti